Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video dedicato a Destiny 2. Come al solito, ragazzi, voglio fare un po' il quadro della situazione circa l'ultimo contenuto dell'Annual Pass di Destiny 2, I Rinnegati. Mi riferisco ovviamente alla stagione della ricchezza, contenuto rilasciato nel corso della scorsa settimana, fuori da una settimana e poco più, dedicato proprio all'Imperatore Calus, al Leviatano, alla Corte dell'Imperatore, eccetera. A mio avviso questo DLC, chiamatelo come volete, è il migliore dell'Annual Pass, staccando di netto l'Armeria Nera e la stagione del Ramingo. E lo è per diverse ragioni che adesso ovviamente vi andrò ad elencare. Come assolutamente, al permesso, ragazzi, queste sono opinioni squisitamente personali, ci sarà poi spazio per dibattere nei commenti. Non dispongo della verità assoluta, né tantomeno pretendo di averla, quindi sentite questo video come se fosse una chiacchierata riguardo l'ultima espansione. Bene, perché appunto, secondo me, questa stagione della ricchezza è appunto la migliore di tutte, di tutte le espansioni dell'Annual Pass. Semplice, perché offre un'attività, che è Serraio, che siccome è come attività unica, nel senso non precedentemente introdotta, è risultata davvero efficace, è risultata davvero la migliore. Serraio, infatti, è molto divertente. È un'attività da sei giocatori, che mi ricorda un po' la prigione degli anziani per certe dinamiche, perché ci sono dei boss variabili, ci sono dei step da fare, e che è davvero ignorante e divertente da giocare tutti insieme, da far casino, da menare. Ci sono poi delle dinamiche anche proprie abbastanza stimolanti, ad esempio i boss, abbiamo visto il Vex, che fa i muri di energia, è una cosa abbastanza intrigante, oppure questa settimana c'è l'Orco con le pallette, va per carità, non particolarmente originale, ma sempre stuzzicante, insomma, anche questa piccola variabilità, che intercorre, diciamo così, tra un boss e l'altro. Un'attività, quindi, fortemente PvE, ovviamente, non ha nessun elemento PvP, e autonoma, nel senso serraio, è una cosa che funziona da sé, grazie anche all'introduzione del calice. E questo calice è un'altra delle cose più positive della stagione della ricchezza. Perché? Perché il calice ci consente di influenzare, di programmare il drop, ed è una cosa che non si era mai vista in Destiny, davvero stra-stra-utile e davvero molto intrigante. È una dinamica che potrebbe avere un importante futuro in Destiny 2, e spero che qui l'abbiano voluta testare per poi inserirla in altri contesti. Infatti, per chi non lo sapesse, il calice è un oggetto condiviso da tutti i personaggi, così non bisogna rifarsi le quest con tutti e tre, ma basta farlo con uno, a differenza dell'armina nera, in cui bisognava sbloccare tutte le forge con tutti i personaggi, cosa che ovviamente non ho fatto, l'ho fatta solo con uno. Comunque, questo calice, attraverso l'inserimento e la combinazione di determinate rune, che si droppano in giro, aprendo casse, facendo serraio, eccetera, si può influenzare appunto il drop, scegliendo l'oggetto da voler droppare, non so, un'armatura, un'arma, eccetera, e influenzando un po' anche le caratteristiche di questo oggetto. Diciamo una dinamica perfetta per scegliere cosa andare a droppare. E questa cosa, ragazzi, appunto, mi è piaciuta davvero tantissimo, insieme al fatto appunto che è condiviso, non deve rifare tutto, e poi è bello poter scegliere cosa droppare, perché, ad esempio, nell'armeria nera io sto cercando di droppare da mo certe esotiche, invece non escono. Certo, anche nell'armeria nera poteva influenzare il drop attraverso i telaio di una terminata arma, ma qua siamo proprio su un piano diverso. Allo stesso modo, serraio dalla paga a verdetto, altre attività pv, introdotte invece con la stagione del Ramingo, ma a verdetto non esisteva come attività a sé stante. Era una costola di azzardo eccelso, e senza azzardo eccelso, a verdetto non aveva niente, non aveva drop, non aveva cose uniche, non aveva particolarità. Era un'attività da fare, sì, in funzione di azzardo, mentre a serraio è un'attività fatta e finita, con le sue caratteristiche, col suo senso, col suo drop, e anche con la sua bellezza artistica. Insomma, a me Leviatano piace molto come ambientazione, magari a qualcuno può piacere meno, però, diciamo, questo serraio mi ha davvero calpito. E spero che sia in nuce, quindi diciamo la base, per qualcosa di più importante nel futuro, magari per qualche dinamica che ritroveremo anche nella grande espansione di settembre, ossia Ombre dal Profondo. Vi ricordo che Ombre dal Profondo sarà il primo lavoro di Bungie da sola. Questo invece era ancora Activision più Bungie, giusto per chiarire, giusto per ripetere. Fatto questo piccolo discorso su serraio, mi sento di spendere due parole anche sull'incursione. Non l'ho giocata in prima persona, sapete che non sono un grande giocatore di incursioni, però, insomma, da quello che ho potuto vedere, è un'incursione carina. Non è particolarmente originale, non è particolarmente wow, incredibile, lasciamo cadere la mascella, però, insomma, fa il suo compito, quindi promossa, insomma, non c'è niente di sbagliato. Ci saranno le quest esotiche, c'è stata quella del Verità, ci sarà probabilmente anche quella per la Rosa, vedremo se ci sarà un dungeon, quindi, a livello di contenuti, siamo sostanzialmente a posto. Mi sarebbe piaciuto vedere, magari, il Leviatano come zona esplorabile, o almeno un assalto sul Leviatano, però Bungie non ha voluto toccare queste cose, non ha nemmeno voluto rinnovare i set dell'avanguardia del Crogiolo, cosa un po' sbagliata, e questa è l'unica nota dolente, ma per il resto, come contenuti, siamo assolutamente a cavallo. Per quanto riguarda, invece, la lore, che è l'aspetto che viene dato, principalmente sul mio canale, devo dire che anche qua siamo messi bene. Ovviamente stiamo approfondendo la figura di Kalos. Kalos è il grande protagonista di questo DLC, ma era inevitabile, e ne ho già parlato in due video. Uno dedicato alla visione di Kalos, che ha avuto ai confini dell'universo, in cui ha visto nulla, il velo, le navi a piramide che stanno per arrivare, e un altro dedicato a quella bizzarra e assurda fanfiction, in cui noi guardiani diventiamo l'ombra della Terra, e poi facciamo una strage. Dal punto di vista di lore, quindi, ci sono già spunti interessanti, ci sono spunti anche riguardo gli psionici. Si capisce un po' perché gli DLC si sarebbe dovuto chiamare penombra, prima di Stagione della Ricchezza, proprio perché l'ombra delle navi a piramide del velo è lì sullo sfondo. È ancora una penombra, però sta arrivando. Ci sarà sicuramente l'ora anche relativa a Rezzi e la Zille, perché abbiamo, appunto, la quest, il dungeon, quello che sarà, relativo alla Rosa. Ed è inevitabile che ci sarà qualcosa da scoprire anche su questo personaggio, che è stato approfondito, ma non tantissimo. Quindi potremmo avere un altro filone di lore che si affianca, appunto, a quello su Calus, sugli psionici, su Leviathan. Quindi davvero Bungie, anche dal punto di vista loristico, ha fatto le cose per bene. Meglio, secondo me, di Stagione del Ramingo, perché la Stagione del Ramingo è della lore, che siccome usciva un po' dal nulla. Anche se manca un po' il discorso di avere una visita da fare, magari un'udienza settimanale da Calus non sarebbe stata affatto male. Però magari non volevano ripetere ancora una volta l'iter delle visite settimanali, visto che c'era già Mara per alcuni, c'è ancora da fare magari l'emissaria per altri, quindi ho detto, vabbè, basta visite settimanali. Però, insomma, incontrare Calus mi sarebbe piaciuto. Forse quella è l'unica nota loristica, stonata di questo DLC. E' proprio il fatto di non aver incontrato Calus e di non aver avuto ancora rapporti diretti con lui, se non appunto attraverso lui che parla durante Serraio, ma non è un dialogo, cioè noi ascoltiamo e lui parla. Mi sarebbe piaciuto incontrarlo, mi sarebbe piaciuto vederlo, però vabbè ragazzi, insomma, ce ne faremo una ragione, magari ci sarà un altro momento per andare effettivamente al cospetto dell'imperatore dei Cabal. Peccato, insomma, avrei voluto farci quattro chiacchiere, anche se il nostro guardiano sta sempre zetto. Quindi forse non è che avrebbero avuto molto da dirsi, però, insomma, sogno nel cassetto incontrare Calus e pertanto rimane un sogno nel cassetto, visto che Bungie non ci ha concesso questo grande onore. Ci ho detto ragazzi, se vogliamo proprio dare un punteggio a questo DLC, dargli un voto, perché insomma alla fine molti chiedono proprio quello, che voto gli daresti? Gli darei un 7-7,5. E' discreto, non è eccezionale, ma è molto meglio degli altri che si aggiravano su 6-6,5, qui e lì, insomma, questo invece secondo me svetta proprio rispetto ai due contenuti precedenti, almeno appunto secondo me e secondo il mio modestissimo parere. Non è detto che voi condividiate, però diciamo che come attività e come tutto è quello che mi ha fatto tornare più voglia di giocare a Destiny, gli altri invece molto, molto, meno. E questo secondo me è un sintomo davvero importante. Che dire ragazzi, godiamoci questa stagione della ricchezza in attesa di settembre, in attesa di ombre dal profondo, ci sarà sicuramente modo di parlare ancora di queste espansioni che sembra davvero molto interessante, ma al tempo stesso continuerò a dedicarmi alla lore di questa espansione perché ha ancora qualcosa da dare, questa stagione della ricchezza, ci sono ancora alcuni temi che sicuramente meritano di essere trattati nel dettaglio, in attesa di fare grandissime congetture su quello che ci aspetta nel futuro. Come al solito ragazzi, vi lascio con qualche domanda, vi è piaciuta l'attività serraio? Cosa avreste cambiato? Oppure vai a dire no guarda va bene così, avreste messo non so, più difficoltà, manca ancora quella ora che avreste messo più boss, non so, fatemelo sapere nei commenti. Seconda cosa, vi è piaciuta la dinamica del catch, questo oggetto che ci permette di influenzare in qualche modo il drop, oppure vi piace averlo più casuale? Come sempre, scrivete nei commenti le vostre opinioni senza fare flame, senza litigare. Vi invito a iscrivervi al mio canale youtube appunto Lorenzo Divus, trovate altri video Destiny Lore, ma trovate anche qualcosa sul Marvel Cinematic Universe e altri argomenti. Se volete seguirmi anche sui social network potete farlo su Facebook cercando Lorenzo Divus e anche su Instagram cercando sempre Lorenzo Divus. Vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.